Musica Ciao gentaglia, sono ShutterhateU, questo è Breaking Italy, spero abbiate passato un buon mercoledì Dai che il fine settimana si avvicina E mi raccomando quando questo video sarà finito, oltre come di consueto, perché lo fate sempre, vero? Andare a controllare il link in descrizione nel caso qualcosa io abbia detto vi interessi Dovete assolutamente andare a vedere questo video Che è stato pubblicato oggi da uno dei miei youtuber preferiti in assoluto È fantastico, è un video steampunk, dovete, non posso dirvi nient'altro, dovete assolutamente andare a vederlo E mi raccomando, nei commenti su Facebook, visto che è un video che è stato pubblicato su Facebook Fate sapere che vi ho mandato io, ci tengo, perché è davvero davvero un bel video Parlando di altre cose fantastiche, successe di recente, perché vi assicuro che ne avremo bisogno in questa giornata Questa persona qui, Eminem, o Eminem Visto che recentemente ascoltavo un tizio americano che dibatteva sulla pronuncia di Eminem o Eminem Comunque il famoso cantante che è diventato appunto famoso Perché è solo bravo, sarebbe finito sui giornali dopo aver esaudito il desiderio di un suo fan in fin di vita Il desiderio di incontrare il cantante, infatti, è stato esaudito dal cantante stesso Sabato E ragazzo, questo, di nome Gage Garmo, 17enne, è poi deceduto lunedì di cancro Infatti era malato apparentemente da tre anni di un'aggressiva forma di tumore alle ossa Che si chiama osteosarcoma E le cose davvero belle di questa notizia sono due La prima è che nessuno potrà saltare sul carro dei pallosi, come al solito, e dire È solo pubblicità! L'ha fatto per pubblicità! Perché questa cosa si è venuta a sapere solo dopo che è accaduta L'artista ha deciso di andare ad incontrare il fan Ha preso un aereo, è tornato a casa, visto che era lontano da casa E poi, visto che i due abitavano nella stessa città Ha preso la sua macchina ed è andato a incontrarlo Ha passato delle ore con lui E ha specificamente richiesto che la stampa non ne sapesse niente Infatti veniamo a scoprire questa cosa soltanto adesso E due, il tutto è avvenuto tramite Twitter I genitori del ragazzo, gli amici del ragazzo hanno lanciato un hashtag Questo hashtag è arrivato agli occhi di Eminem Che ha deciso di presentarsi a casa del teenager Questo è il potere di social network Precisamente il potere di Twitter Perché sai che se mandi un tweet a qualcuno Con buone probabilità Questa persona leggerà quel tweet Anche in casi come Eminem In quel caso magari bisogna lanciare un hashtag O scrivergli un po' più di volte Però funziona O magari ti fai bloccare O mutare O ti arriva la polizia in casa Perché apparentemente può succedere anche quello Ma ne parliamo tra poco Perché prima vorrei parlarvi di questa persona qui E sapete bene cosa gli sia successo Perché probabilmente questa notizia Sarà quella che darà il titolo a questo video In modo che tanti di voi possono andare sui commenti E dire BASTA Perché usi sempre i titoli più stupidi e curiosi Perché che palle Billy Perché che palle Questo tizio Ha subito probabilmente la roba più orribile Che si possa pensare di subire in quanto uomo Ovvero l'amputazione del pene Che gli è stata fatta dalla moglie Due volte Praticamente il tizio aveva una relazione con un'altra persona O era in qualche modo Sentimentalmente Anganciato ad un'altra persona La moglie lo ha scoperto E invece di confrontarlo subito Come qualsiasi persona normale farebbe Ha aspettato che il marito andasse a letto Poi si è avvicinata Ha preso un paio di forbici E gli ha tagliato il pene Già questo Perché? Cioè come può far... perché? L'uomo, un cinese di 32 anni Di nome Fan Lung A questo punto è stato preso Messo dentro un'ambulanza E portato al volo in un ospedale Dove i medici sono riusciti A riattaccargli il pene Quindi yeee Più o meno Cioè è comunque una storia di merda Ma ha un lieto fine Giusto? Sbagliato Arriviamo a questa immagine qui Ovvero quella dell'uomo che di nuovo senza pene Sanguinante e menomato Combatte con la moglie in un parcheggio Perché apparentemente la moglie A questo punto ex moglie Immagino, immagino che la cosa accadrà a breve Ha lasciato i suoi cinque figli a casa Per recarsi in ospedale Entrare di nascosto nella stanza Tagliare di nuovo il pene E però questa volta lanciarlo dalla finestra In modo che i medici non potessero fare niente Visto che a questo punto si ipotizza Che sia stato rubato da un gatto randaggio Ah? Comunque il vero amore apparentemente trionfa Visto che l'amante slash Altra persona che ancora non è comparsa in questa storia Si è correccata in ospedale Si è detta pronta a sposare quest'uomo comunque Anche se non può più avere figli Perché tanto ne ha già cinque Quindi insomma ha già dato E quindi l'amore trionfa E Cose Ma ovviamente la moglie è stata arrestata E passerà molto probabilmente del tempo in carcere Perché non importa quanto pensi di avere ragione Nel momento nel quale ti metti a tagliare i pezzi della gente Mutilarla, lanciare robe dalla finestra Che prima appartenevano alla persona mutilata Passi automaticamente dalla parte del torto E' più o meno così che funziona E' una di quelle regole universali Tipo non tagliare la fila alle poste O Grazie ma il caffè d'ordo mi fa schifo E robe di questo tipo Cambiando completamente argomento invece Volevo velocemente trattare e chiedere la vostra opinione In merito a qualcosa che molti di voi mi hanno chiesto di ficcare dentro questo show Quindi lo facciamo Perché è sicuramente una notizia interessante Che vede protagonista un insegnante L'istituto tecnico di Vicenza Che è finita dentro a un gigantesco maelstorm di merda Un tifone allucinante di polemica causato da un gruppo di genitori che si è lamentato Con Matteo Salvini Noto personaggio per essere sia il segretario della Lega sia una persona evidentemente dipendente Dei social networks Seriamente Matteo Datti una calmata perché così non fa troppo Quando è troppo Cioè davvero Che appunto ha preso le lamentere dei genitori e le ha risparate nell'universo E queste lamentere vertevano attorno a un particolare titolo di un tema Questo qui Dopo aver preso in considerazione i dati sull'immigrazione in Italia E dopo aver letto l'articolo Scrivi un testo argomentativo In cui persuadi un tuo compagno leghista Che il fenomeno migratorio non è un problema Bensì una risorsa E quindi è successo un casino E la ragione per la quale il casino è successo è semplice Ed è molto vecchio Anche quando io ero al liceo E quando i miei genitori erano al liceo Perché me lo raccontano C'erano questi tipi di problemi Quando si toccano certi argomenti A scuola E quando dico certi argomenti Intendo robe tipo etica, politica Qualsiasi cosa che tendenzialmente non sia scritta su un libro e devi imparare a memoria Succede un casino Perché tra le quattro mura di una classe Come tra qualsiasi altre quattro mura in qualsiasi situazione nella vita Ci sono varie persone con varie sensibilità Vari orientamenti politici Vari background culturali Spesso anche vari livelli di istruzione Anche se stiamo parlando di una classe E quindi il punto è Il titolo è legittimo Perché se da una parte effettivamente il titolo è un bel titolo L'ipoteso ci fosse un articolo dei dati istat Quindi si parla di migrazione Per lo meno non si parla sempre delle solite quattro minchiate Il titolo è fatto male Perché anche se non ci fosse stato scritto Convince il tuo amico leghista C'è comunque Convince qualcuno di una posizione Che potrebbe non essere la tua Ed è ovvio che da molti un titolo di questo tipo possa essere criticato Personalmente se fossi stato l'insegnante Che comunque rispetto Perché sta parlando di qualcosa di interessante Con i ragazzi avrei dato un titolo un po' diverso Magari Visto l'articolo Visti i dati istat Visto tutto Cosa ne pensi dell'immigrazione Giusto o sbagliata Pandora o Panettone Insomma una roba di questo tipo Però vorrei sapere la vostra di opinione Anche se c'è da sottolineare un'ultima cosa Apparentemente nessuno dei ragazzi in classe si è lamentato Si sono lamentati i genitori successivamente E quindi c'è questo che può voler dire tante cose Ah visto che stiamo parlando di politica Napolitano si è dimesso Non c'è nulla veramente interessante da dire in merito Si possono fare un sacco di speculazioni tipo Chi sarà la prossima persona il prossimo presidente Sarà Piero Fassino Sarà Veltroni Insomma Chi Casini What? E' una delle persone possibili Insomma ne parleremo quando effettivamente saremo vicini All'elezione del presidente Per ora il presidente diventa Piero Grasso Che è la seconda carica dello stato Ovvero il presidente del senato Alcune persone lo hanno indicato come il più possibile Tra i papabili al Quirinale Perché è molto importante ed è anche in un certo senso necessario Che ci sia una grande intesa trasversale tra tutti i partiti Sulla persona da mettere sulla sedia al Quirinale E quindi se è molto difficile fare delle previsioni su chi verrà eletto Perché poi le elezioni vengono fatte a scrutinio segreto Quindi nessuno sa cosa i deputati e i senatori e i rappresentanti del territorio Scrivono sulle schede e ognuno scrive più o meno quello che vuole A prescindere spesso dei desideri del partito D'altra parte è molto facile sapere chi probabilmente non verrà eletto In ultimo gentaglia Je suis Charlie però soltanto soltanto se sei morto Quando sei morto puoi dire tutto quello che vuoi Ed è diritto di satira sei fantastico Sei un genio sei la persona migliore che abbia mai fatto una battuta sulla faccia del pianeta Anche se quella battuta era di cattivo gusto e faceva schifo Ma se sei vivo probabilmente ti potresti trovare la polizia a casa La polizia francese a casa Ed è quello che è accaduto a quest'uomo Che sinceramente non è che mi stia particolarmente simpatico Si chiama una roba tipo dieudon balambala Ed è stato messo in stato di fermo Per apologia al terrorismo Il tutto è avvenuto al termine Della marcia repubblicana che è avvenuta in Francia No quindi tutti coi cartelloni Libertà di stampa viva l'occidente Ognuno dica quello che vuole La satira è fantastica E quest'uomo è stato arrestato per aver twittato Je suis Shirley Cowley Bali Che è il cognome dei due fratelli che poi hanno fatto la strage Quindi ha unito queste due cose in una battuta che non so bene cosa potesse significare Ma effettivamente è ben lontana dal dire Grandi terroristi avete fatto solo bene Ecco non è esattamente questa roba che lui ha detto Però è stato messo in stato di fermo come se lo avesse fatto E mettiamo le mani avanti Questa persona è nota per le sue uscite razziste Per le sue uscite antisemite Ciò nonostante in questo caso Molte persone stanno facendo notare che queste matite spezzate Si applicano soltanto quando ne abbiamo voglia Quando invece non ne abbiamo più voglia Basta pochissimo per farci dimenticare questo inalienabile diritto alla satira Ma questa gentaglia è tutto quello che ho avuto a dirvi per oggi Grazie per aver guardato Grazie ad Edoardo e Giovanni Che sono i nostri alfieri per oggi E hanno fatto questa foto con il mio logo Fatto con una bomboletta rossa per terra Anche per l'altro non so Si può fare questa roba illegale In effetti è per terra Non è su un marciapiede Però non lo so si può fare Probabilmente non si può fare Comunque ringrazio tutti quanti per aver guardato fino a qui Eccovi 15 euro Andate a comprarvi quello che volete Grazie per avermi seguito E poi li recupero perché sono povero Ci vediamo domani Alla prossima Bene Grazie a tutti